È una malattia subdola perché spesso non ha sintomi. In Italia un milione e duecentomila persone ne sono affette, ma la metà di loro non lo sa. È il glaucoma che rappresenta la seconda causa di cecità nei paesi industrializzati. Il glaucoma è una malattia cronica degenerativa che colpisce la testa del nervo ottico. È una malattia subdola, insidiosa, asintomatica e in questo sta il suo pericolo. Perché il paziente non ha nessun sintomo, pensa di stare bene, magari si rivolge a fare un semplice controllo dall'ottico che sta sotto casa per prendere un paio di occhiali. Ma a volte si scopre che dopo qualche anno forse il disturbo asintomatico che lui aveva era dovuto a qualche altra cosa. Quindi è una malattia inoltre che ha una sua familiarità, quindi ha un carattere anche ereto familiare. Come si manifesta? Aumenta la pressione interna all'interno dell'occhio. Quando si manifesta il paziente ha dei problemi a livello di campo visivo, cioè incomincia ad avere un restringimento del campo visivo fino ad una visione tubulare, come se vedesse attraverso un cannocchiale. Fondamentale è la diagnosi? Innanzitutto con la misurazione del tono oculare, la misurazione dello spessore della cornea, ma esame cardine e l'esame del campo visivo. Per valutare il deficit di sensibilità retinica. E poi oggi è fondamentale anche l'esame OCT, l'attacca del nervo ottico, dove andiamo a misurare proprio lo spessore delle fibre nervose. Ma come si cura il glaucoma? Si incomincia oramai con una terapia topica, con dei coldiri che comodamente si possono mettere una volta la sera, oppure si possono associare nella gradualità della terapia con altri coldiri. In un secondo step abbiamo una terapia parachirurgica, quindi si può avere l'impiego del laser. E in una fase molto avanzata, lì dove non riusciamo a curarlo con una terapia medica, abbiamo la terapia chirurgica. Ma si può guarire dalla glaucoma, dottore? Il glaucoma è una malattia curabile, come diceva il mio maestro, ma non guaribile, perché si può controllare ma non se ne può guarire. La prevenzione, le visite periodiche, sono fondamentali. Un appello proprio nella settimana mondiale della glaucoma arriva dall'Unione Ciechi e Ipovedenti di Frosinone. E come ogni anno la IAPB, Agenzia Internazionale Prevenzione Ciclietà, sezione italiana, organizza questa settimana. E come ogni anno noi, come Unione Ciechi e Ipovedenti di Frosinone, partecipiamo con la distribuzione dei nostri volantini nella strada principale di Frosinone. Io, come dico sempre, ogni anno l'Unione sta con la prevenzione. Prevenite, 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 perché il glaucoma è un mostro nascosto.